Carissimi spettatori di Chiasso TV, primo raduno delle Fiat Panda a Chiasso. Ciao Gabriele. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, che emozione si prova a riuscire a organizzare il primo raduno delle Panda a Chiasso? Sicuramente c'è tanta emozione, c'è anche un po' di tensione perché quando si organizza per la prima volta una cosa si ha sempre paura di toppare qualche cosa. Quindi è un mix fra entusiasmo, fra emozione, tensione. Quindi è una cosa bella, un bel mix. Ecco, allora dobbiamo tenere presente che qui è proprio il primo, cioè non in Ticino. Non è il primo in Ticino. No, è il primo in tutta la Svizzera. Incredibile. Quindi da Chiasso e per la precisione qui da pedrinate, perché voi ne vedete alcune di Panda schierate, ma in realtà noi siamo qui alle otte e mezza della mattina in attesa che arrivano gli altri. Certo. Sì, sì, c'è gente che arriva da Prato, c'è gente che arriva da Brescia e quindi arriveranno un pochino più tardi, ci raggiungeranno poi magari sul corso. A parte qualcuno che si è già fatto la coda al Gottardo per venire in giù, perché l'abbiamo beccato prima a far colazione con noi. Esatto, sì, abbiamo uno dei nostri membri che è arrivato da Berna. Quindi pazientate che fra un attimo vi faremo vedere tutto il resto. Domenica 6 ottobre 2024, data storica, primo raduno delle Fiat Panda praticamente in Svizzera ed è qui a Chiasso. Sì, esattamente. Il primo di una lunga e grande serie, speriamo che vada tutto bene, che la gente sia contenta e che si diverta. A tra poco. Grazie. 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 Grazie.